Domenica e lunedì c'è lo sciopero nazionale dell'autostrada, ovviamente la filta CGL si augura una grande adesione, soprattutto nelle autostrade abruzzese a 14, a 24, a 25. Le modificazioni sono da ricondursi alla mancata risposta delle loro associazioni di categoria, l'associazione delle concessionarie, dal tentativo maldestro delle stesse di provare a approfittare della pandemia per massimizzare i profitti, desertificando servizi, riducendo forza lavoro e impiegata. C'è stato un uso sconsiderato della cassa integrazione, ma a volte è sembrata non necessaria, quindi distraendo risorse pubbliche da settori che ne avrebbero avuto più bisogno. Abbiamo bisogno di un'interlocuzione collettiva e complessiva, invece l'attenzione è appuntata soltanto sul destino dell'autostrada per l'Italia, mentre il resto delle concessionarie stanno provando a stracciare regole e a massimizzare i profitti.